Da 35 anni ci occupiamo di produzione e posa di formulati per pavimentazione in resina. Siamo andati a riformire un prodotto che soddisfi appieno le richieste del cliente, produrlo e posarlo direttamente. Il beneficio di poter produrre per il cliente è la possibilità di personalizzare il prodotto in funzione delle sue esigenze e necessità, sia in termini di tempi di applicazione, sia in termini di condizioni di applicazione a livello di prestazioni meccaniche e chimiche. Noi ci avvaliamo nella struttura interna di laboratorio e di test continuo, ma la cosa importante è che noi prendiamo tutta l'esperienza anche diretta dai nostri cantieri e questo è quello che ci differenzia dagli altri, che facciamo direttamente la posa e andiamo direttamente a risolvere e a vedere quali sono le problematiche. Questo ci ha permesso con la nostra conoscenza, la nostra ricerca continua dei nostri laboratori di arrivare ad ottenere questi prodotti, questi risultati. La nostra esperienza di 35 anni ci ha portato a definire tre linee di prodotti, Basic Line, Aquatec Line e Urban Design Line. La linea Basic Line ha basso impatto ambientale, ma con le limitazioni classiche di una resina sold and free tradizionale. Dallo sviluppo della linea Basic Line siamo arrivati a creare la linea Aquatec Line, una linea idrodispersa sviluppata direttamente dai nostri laboratori, zero sostanze volatili e soprattutto la possibilità di essere applicata su fondi particolarmente umidi o con umidità in contospinta. Le caratteristiche finali di questa linea hanno ormai raggiunto quelle che sono le prestazioni chimico-fisiche della linea Basic. L'ulteriore sviluppo della linea Aquatec ha portato alla creazione di sistemi per l'esterno della linea Urban Design. La linea Urban Design si caratterizza da formulati, anche questi, a zero impatto ambientale e ha sistemi per piste ciclabili, vialetti, aree ludiche, parchi e tutto quello che è pavimentazione pedonale e carrabile esterna. Il futuro di PM Italia è sicuramente una visione eco-friendly. Per rispondere alle esigenze della clientela nella possibilità di avere il minore fermo impianto possibile svilupperemo pavimentazione in grado di essere realizzata in pochissimi giorni, offrendo questa caratteristica in più al nostro cliente.